Il crescente numero di persone colpite da Alzheimer e l'incidenza che questa malattia ha sulle famiglie di chi ne è affetto ha indotto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a considerarla una malattia sociale. Essa infatti ha un alto impatto emotivo, economico e assistenziale. Oggi è la giornata mondiale dedicata ai malati di Alzheimer. Antonio D'Ambrosio, presidente dell'Associazione Molisana Malati di Alzheimer, ha voluto esporre alcuni dati che riguardano la patologia nella nostra regione. C'è una crescita esponenziale in tutto il mondo ma nel Molise si registra e si nota di più perché la popolazione anziana c'è una percentuale dai 65 agli 85 anni superiore alla media nazionale di circa del 4% e vediamo che proprio in quell'età si registra un sensibile aumento di malati di Alzheimer che purtroppo fa alzare la media nazionale e la media qui regionale che non è poi solo Alzheimer per la verità ma è la demenza in generale. Sui servizi relativi all'Alzheimer D'Ambrosio ha fatto alcune considerazioni. Negli ultimi 10-15 anni sono stati erogati alternativamente vari servizi ma tutti sono andati a finire a tempo questi servizi creando non una continuità di rapporti con le famiglie perché in modo particolare incide sulle famiglie quindi è una malattia prevalentemente sociale e disorientamento perché dalla mattina alla sera per esempio andiamo ai domiciliari non venivano più fatte. Nel premesso e le promesse di poter attivare io credo che in questo momento con atti alla mano c'è un'attenzione nuova rispetto alle strutture agli investimenti sulla demenza in generale e sull'Alzheimer apriranno posti letto all'Arino di cui una parte riservata all'Alzheimer. Tutto questo comunque in un contesto di tagli diffusi e contestazioni al piano frattura che da più parti viene definita operazione di smantellamento della sanità pubblica. Polemiche serrate anche a Larino, Venafro e Agnone. A Campobasso da un anno è operativo il primo caffè Alzheimer del Molise, il caffè di Enrichetta. Abbiamo trovato e cercato di dare sollievo a più famiglie attraverso i volontariati con la cooperativa ricerca e progetto e adesso abbiamo in animo di aprire anche a Termole prossimamente ai Serne. A Termole è imminente.